Non ci credo, è tornato, è tornato, è tornato, è tornato pure qua, è tornato raga, è torna, è tornato, l'eroe indiscusso Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo settimo episodio di Pokémon Light Platinum Randomizer Nuzlocke Signori miei, nello scorso episodio abbiamo ottenuto la nostra terza medaglia sconfiggendo il capopalestra di questa città E vabbè, inoltre abbiamo battuto, cioè abbiamo anche risvegliato, cioè sono stati risvegliati Chiogre, Growl, non sapete Cosa è comunque di poco conto, e nulla, la squadra è rimasta totalmente invariata, forse ho portato qualche Pokémon a qualche livello più alto Ma nemmeno non è vero, perché li avevo portati tutti al 36, nella scorsa parte sì, è un po' che non registro E nulla, direi che possiamo proseguire, allora, mi avete detto ragazzi che la Pietra Tuono in questo gioco si trovava nella prima città Io ovviamente come un deficiente decelebrato non è che ho controllato, e quindi per ora ci teniamo Randall a livello 36 Ok, non torno alla prima città, semplicemente per il fatto, intanto affrontiamo un po' di allenatori Semplicemente per il fatto che c'è il tratto di mare dove aveva preso quella barca bellissima Che non si può più percorrere, diciamo, e quindi, e quindi Piloswin, non è che rischio di morire, vero? Ok, perfetto E appunto non si può più proseguire, non si può più attraversare quel tratto di quello che penso fosse un mare, un fiù Cresselia, Cresselia Allora, io se trovo un altro Cresselia in questa ROM, bestemmio la madonna Perché non è possibile sta cosa Non è possibile È assurda, è pazzesca E soprattutto non è un fottuto scherzo Moonlight Per piacere Già oggi è riniziata la scuola, sono nervo Cristo Allora Ce l'hai una famiglia? Io te la distruggo tutta Dalla Cristo Eh, anch'io sono stupido però Allora, fermi Forse devo iniziare a ragionare Sascha Muori Oh, oddio Mamma mia, come se fosse impossibile Quante poche volò Sei No, aspettate vado a prenderne qualcuno Perché ragazzi, a parte il fatto che adesso abbiamo la squadra completa Quindi il prossimo Pokémon entrerà tra le riserve A meno che non sia tipo, non lo so Arceus Gesù Cristo Allora E allora lì la situazione cambierà Però ora come ora penso di non cambiare il team Comunque tanto mi morirà sicuramente qualche Pokémon in questa serie Perché dovrà sicuramente succedere prima o poi E nulla Quindi le riserve saranno abbastanza utili Tra l'altro nel prossimo episodio penso che vi farò trovare il nome di Tauros cambiato Perché mi avete fatto notare che è un soprannome di merda Quindi magari consigliatevi qualche bel soprannome per lui La morte che mi prende Ok, allora questo qua si sta segando verosimilmente Ok, perfetto Ti sei allenato qua per Oddio, questi Sono dei Daskal Figata Ok, però non posso andare perché ci sono le rocce Allora Di qua si prosegue Andiamo un attimo di qui perché Ecco una spiaggia E c'è un tipo poco raccomandabile Un Max Aether E nulla Dicevo prima Ah sì Consigliatemi dei soprannomi per Tauros Ora che tanto so dove si trova il name rater Lo posso cambiare quando voglio Figlio allo caro Tu non mi sfidi, vero? Oggi il mare sembra ancora calmo Come speravo Questo deve essere un segno Che il mondo sta ritornando alla normalità A caso Felice di conoscerti Il mio nome è Thomas Devo tornare a Ok, a Dardusk City Ora Ma spero che Ok, questo qua Penso sia il capopalestra Perché Da come l'hanno presentato La prossima città è Dardusk City Tipo Che presumo sia La lavandonia di questa generazione Cioè di questa generazione Buonanotte Di questo gioco E nulla Direi che possiamo proseguire Ehm Sì perché di qua Non possiamo Tu mi sfiderai? No, non mi sfidi Cosa vuoi allora? Per distruggere le rocce Ti voglio bene Veramente Voi siete le cose più belle Che esistano Però per ora Non insegno spaccroccia Nessun Pokémon E invece lo piglio nel culo Perché lo devo fare Comunque Cattura Io chiudo gli occhi Cazza Oh Gesù Scrafty Ok Perfetto Ok Scrafty Non mi fa così cagare Come Pokémon Regge anche abbastanza bene Ehm Però c'è una puttana Questo potrebbe essere un problema Ultra Ball Benissimo Aspettate ma Ma io gli avevo fatto Thunder Wave Oh perfetto Allora fermi No mi sta aprendo il culo Però Ice Smash Ma cos'è Ice Smash Raga Non la conosco come mossa Uno Due Tre Per piacere Yes Preso Scrafty Ehm Boh non lo so Tipo Visto che è un gangster Lo chiamo Ehm Boh non lo so È un gangster Tipo uno di quelli Con le catenine Che vanno in giro così Lo chiamo Aspettate Lo chiamo Lo chiamo Deepy Move Adesso vi spiego anche perché Ska è una citazione Ai bei momenti E Deepy Move È stato mandato al pc E allora Mentre insegno Tra l'altro come sono messi Poco Concuriamo un attimo Randall Praticamente Qualche tempo fa Io e Luke Stavamo parlando Di partnership No Ehm Dato che lui adesso Sta pensando Di cambiare partner E appunto Nel caso non lo sapeste Deepy Move È uno dei principali Se non il principale Network italiano E l'unico punto È che io gli ho detto A Luke Ehm Deepy Move Ti tratterrà anche Meno percentuali Di soldi E tutto Farà quello che vuoi Ok Però sinceramente Parole testuali Mi girerebbe il cazzo A andare in giro Con i Ehm No ok No Stavo notando Come il percorso di sopra Forse era diverso No appunto Gli ho detto Mi girerebbe il cazzo Andare in giro Con tutti i braccialetti Di Deepy Move Che si mettono I Quelli che hanno La partner con Deepy Move Perché poi sembrerei Uno di quelli del ghetto Solo con le robe di Deepy Move E nulla Mi è venuta in mente Sta cosa qua Quindi nulla Saluto Luke E Direi che possiamo proseguire Dopo sta cagata immonda Chi ha il fort nuovo? Spide Vabbè vai davanti tu Non ho voglia di cambiarlo Tu? Mi sfidi? I Pokémon si possono nascondere Negli alberi Puoi utilizzare Edbat Se solo lo avessi E poi Celebi Giusto no? Perché non potevo tenere lui No dovevo tenere Deepy Move Perfetto E vabbè succede Qua strumenti nascosti Non ce ne sono Vediamo che altri Pokémon Si trovavano a sto punto Ecco ad esempio Claydol avrei bestemmiato Rampardos Tanta roba E magari Celebi Sarebbe stato utile Ottimo No davvero Uh Cicorita Tanta roba Cicchita Com'è che si chiama questo? Cicorita Ma cioè Cosa è successo? Si è disrandomizzato Un'altra volta Mi sa Raga cosa sta succedendo E nulla Questo randomizzatore qua Fa il burlone Diciamo Comunque Iniziamo a sfidare allenatori Gli allenatori possono conoscere Devono conoscere Tutti i Pokémon Per essere forti in battaglia Ma soprattutto Devono avere una sana alimentazione E una sana bevanda A loro A loro portata Quindi Crystal Mi sono bagnato tutto Perché Steelix Qualcosa mi dice che Steelix Contro Spider Mi apre leggermente Il culo Allora Mandiamo Sasha Lui fa rafforzatore Perfetto Sei stupido E muori Ole Allora Sceptile Ma potrei tenere anche lei Utilizzare un Ice Beam Sapete Ciao E' stato bello conoscerti Bronzong Eh eh Bronzong Mandossie Ti apro sei volte Perfetto Ah e ne hai un altro Chi era Glalie Sciambola Ole Perfetto Allora A sto punto Togliamo Spider Da davanti Ok perfetto Gli ho ritirato il Fortunuovo Quando volevo fare un'altra cosa Ma ci sta Finito questo video Mi cambio i pantaloni Perché sembra che mi sono pisciato addosso Allora Fortunuovo Sasha Sì Prosegue Tu non mi sfidi Ok perfetto Sì esattamente Non utilizzate Perfetto E poi se le vi a caso Dopo aver trovato Buisola e Ciccolita TM47 Cos'è Uh Steel Wing Giustamente noi non abbiamo poco Di tipo volante Ha senso No Io ti odio Ti odio Gold Ti odio Fermi tutti E no appunto Dicevo Penso che lo sappiate quasi tutti Cobalion E poi qualche altro leggendario Non lo so Arceus Dialga La Madonna Crocifissa Non lo so Oppure la scrivania Ho bagnato Pensa a te Che disastro E allora Quindi No dicevo appunto Non allenati poco con le caramelle rare Perché Appunto Poi non ottengono gli EVS E di conseguenza Perdono È passato No Non mi sembra passato così tanto tempo Perché non te ne vai Dai giura Era quotata 1.2 Allora Flowazzle Perfetto Noi abbiamo Sascha Che però Direi di switchare Mandiamo Tarzan Lui fa Crunch Per Non male che ho switchato Gigadrain Tra l'altro raga Ha dei livelli abbastanza altini Questo gold Per i miei gusti Octillery Perfetto Però i pokemon d'acqua Cioè ovviamente sono randomizzati Non è colpa tua Sei sfigato Nido king Sì mi conviene mandare Sascha E fare un ice beam Che ha la stab Quindi giù Perfetto Magari se andiamo al pure A livello 37 Tanta roba Arcanine Ecco vedete Quando dico che frisco Potrebbe tornare utile Cosa intendo Intendo proprio questo Spar Stai fermo Stai fermo Lo sapevo Ci avrei scommesso la vita Ti giuro Ok Giù Perfetto Oddio Questa me la sono rischiata un pochino Impossibile Ho perso di nuovo Sì Mi sorprendi Ogni volta che ci Mi sorprendi sempre di più Ogni volta che ci incontriamo Aspetto uno in sei Mi amico Tu sei un figlio di puttana Sappilo Tu sei un grandissimo figlio di puttana E cara grazia Che t'ho visto Perché se non t'avessi visto Sarebbe stato un problema Comunque Riteniamo il fortuno nuovo qua OBS sta registrando Da dieci fottuti minuti Come vola il tempo Quando se le prendi A light platinum Ultraball Perfetto Allora Io direi di parlare un po' Alla gente Qua abbiamo sempre Divi move Incredibile Allora Perfetto Direi di affrontare Anche quest'altro Pursuit Oddio L'ho quasi aperto Incredibile Attenzione Ah ma paralizzato Perfetto Non me ne ero accorto Però era un critico Allora che ci penso Ninetales Tanta roba Ecco Mi serve davvero un po' Come di tipo acqua Sul serio Sul serio Mi serve Lo necessito E' proprio una cosa Staraptor Falco leone Caro mio Se usi doppio team Ti giuro che ti apro Gotitel Ah crunch Quale è il problema Psico cos'era Psico cos'era Minchia la paura E poi Dasconuar Oddio Nightshade Calma tutti Crunch E giù Perfetto Aperto questo coso qua Che aveva i peggio pokemon Proprio pokemon Da altre dimensioni Ultra creature Ancora un attimo Io non lo so Sti allenatori del giorno d'oggi Con le ultra creature Si stava meglio Quando c'erano i pokemon Mamma mia Allora Lucky egg Poi non so come sono finito A parlare delle ultra creature Sinceramente Ok perfetto Il percorso prosegue di qua E allora Lì c'è un altro Che si fa le seghe Evidentemente Calcium In testa Te lo tiro il calcium Dammi degli strumenti utili Ok Sei quello di prima Che si è trasferito Perfetto Nella regione di Allola I pokemon si possono nascondere Siete tutti fottutamente uguali Mi fate schifo Penso che stiamo per arrivare Alla prossima città ragazzi Allora Questo qua Ha un on doom Però contro buffalant Non c'è un cazzo da fare Rock smash A casa Ole no Serviva un horn attack Buisol E giù Pocchiene Madonna C'è i pokemon potenti Mi dicono Cascu Ole Rotom Giustamente Giustamente poi mi metti davanti un rotom No Non fotti con buffalant Mi dispiace Ole Tutti a livello 37 Siamo al parco nazionale Che cosa Non mainstream Mamma mia Non l'ho mai visto Soprattutto nella regione di Yoto Soprattutto sei un figlio di Troia Sei qua Pure qua Ah tra l'altro Qua ragazzi Se c'è l'erba Ci posso fare un'altra cattura Ora che ci penso No caro mio kingler Non hai capito Purlwan Perfetto No Ok Non mi fare imbestialire Purlwan Perché Quanti cazzo siete Ma siete tanti Oddio Che È strano lo sprite di Pidgeot Sembra molto più piccolo Rispetto al normale Sai te Sai te Giù Muori Muori Via Oh Perfetto Livello 38 Per buffalant Ole Mettiamo davanti Sia Sto cercando Se nel caso non l'aveste capito Di mettere davanti I pokemon Che hanno più Più Cristi in corpo Hanno Ole Perfetto Ma i pokemon Il tuo pokemon Piace stare al parco Ehm Ah perfetto Al parco nazionale Ci sono Una lightball Probabilmente è la Pokeball di Kira Andiamo a vedere Cazzo è la lightball Ah ma fa un culo Non è una pokeball È Elettropalla Mi sa Ma cazzo Qualcosa del genere Non mi ricordo Ah ok Perfetto Kaori Giusto Il campione La lega pokemon Ok I pokemon Di tipo Secondo me Non ci vivono I pokemon Di tipo Coleottero Sai Ho questo Vago Presentimento Nel corpo Tu stai qua Fammi parlare Ok Parlo un po' La gente Ma non mi dicono Nulla di importante Prima di entrare Nell'erba Raga Però voglio Vedere Se si può Fare la Full heal Nel frattempo La gara Piglia mosche Perché Sarebbe Dicevo Sarebbe figo Perché Tecnicamente La gara Piglia mosche È un Posto Nella nazzola In cui posso Scegliere Io il pokemon Essendo che Ogni pokemon Viene contato Non lo so In realtà Sapete Sto sparando Cagate Ok Fa un culo Siete chiusi Datemi il pokemon Non ci credo È tornato È tornato È tornato È tornato Pure qua È tornato Raga È tornato È tornato L'eroe Indiscusso L'eroe L'unico È vero John frog L'inviato Da merda John frog John frog Lo chiamo Per forza John frog Signori miei Signori miei Il ritorno Il miglior Pokemon Della prima Della seconda Della terza Della millesima Generazione John frog Vedrò di allenarlo Raga John frog Entrerà sicuramente In team Non c'è un cazzo Da fare E soprattutto Entrerà in team Perché io se non ricordo male Dovrei avere Una pietra idrica Che probabilmente Però sono stato coglione E ho venduto Quindi non ce l'ho più Ma comunque John frog John frog Mamma mia Signori miei Questa sì Vediamo chi altro Si trovava Tipo un bellissimo Nidoran Verosimilmente Pokemon non randomizzati Perché il randomizzatore È gay No ma penso che sia Randomizzati in realtà Perché se fa Che si trovano Pokemon di Coleotter In realtà Penso che Dovrebbero in teoria Essere randomizzati Non saprei Mi sembrano tutti talmente Alla forma Così basici Oddio no Via tu Ti prego Mi hai fatto smattare Nella crazy rock Siamo a 16 minuti Quindi direi di sbrigarci Signori miei 100 like 100 like Per il ritorno Di john frog Adesso Li voglio vedere Kecleon Ma ammazzati Col gas Fermi tutti Allora Questo me lo posso Giocare bene Smog Ammazzati col gas Nightshade Nightshade di nuovo Smog Ok Perfetto Si Battuto Joachim Perfetto Mi devo già ricurare i pokemon Mamma mia Signori miei Ok Stiamo per arrivare Forse alla prossima città Intanto io parlo sempre Per la gente che non si sa mai Come faccio a raggiungere Quello strumento Voglio Voglio quello strumento Sapete Non ne ho idea Fatemi vedere Probabilmente Devo fare un giro Un giro strano Non saprei Da qualche parte Si potrà entrare Ed educo Forse non me ne sto accorgendo io Ma c'è un posto Vabbè Cosa faccio a prendere Quello strumento Raga Aspettate Forse No No Sono basito Sinceramente Aspettate Posso fare il giro Da lì mi sa Ok Parliamo velocemente Alla gente Per vedere se ci danno Qualche strumento Ma Dicono Tutte Tutti le stesse Fottute cose Una cosa assurda Mamma mia Che fantasia Che avete Davvero Una regione omologata Stronza Non t'avevo visto Cioè Più che altro Non pensavo Che mi affrontassi Non avevo ancora realizzato Livello 38 per sia Bagon Sasha Vai tu Ice Beam E giù Bagon Perfetto E poi Roserade Stesso discorso Via Olè Ottimo così Mamma mia Signori mie Il ritorno di John Frog Sono ancora In fibrillazione PP up Nel frattempo Vediamo se c'è qualcos'altro Si c'era qualcos'altro Una Focus Band Sarebbe Bandana Sì esatto Perfetto Non sapevo se era Mi stavo confondendo Con Focus Sesh Vediamo se anche qua C'è qualche strumento In particolare Ma se non ricordo male Non dovrebbe essere così Difatti Non c'è un cazzo Come avevo Ampiamente pronosticato No Pensavo Pensavo Partissero Musicate Di lavandonia Sinceramente Oddio No No Ascoltate C'è questa cosa qua È illegale Questa cosa qua Che hanno fatto È illegale Si perfetto Questa città qua Ci sarà Come palestra Di tipo Spettro sicuro Mamma mia Raga Quanta E ci sono i Dooschool Per la città Wow Direi Molto Poco inquietante Torre del guardiano Perfetto Allora direi che Prima vorrei trovare Un centro pokemon Esploriamo velocemente La città Signori miei E poi stoppiamo Visto che siamo già Quasi 20 minuti Ok Perfetto Tu non mi dici nulla Di importante Come Uh Eh prendiamolo Perché no Ecco perché no Allora aspettate Lo vado a A prendere Probabilmente non lo metto In squadra Perché sinceramente Non è un pokemon Che mi ispira Più di tanto Ragazzi Vedrò di allenare John frog Perché se non lo metto In squadra Poi lui mi ficchia Sangue Ehm Perfetto Intanto riceviamo Driflun Io mi devo sempre Ricordare che devo Parlargli un'altra volta E nulla Poi vi farò sapere Se lo metterò In squadra o no Più che altro Il punto è Se farò in tempo Ad allenarlo Per metterlo in squadra Oppure no Anche perché C'è il team che abbiamo È abbastanza potente Secondo me Allora Perfetto Io parlo un po' Alla gente in giro Perché se mi Dovessero dare qualcosa Di utile Allora Tu sulla panchina Eh infatti Lui raga sulla panchina Mi sembrava molto Antisgamo Ok perfetto Allora Tu invece Uh Sheninja Hai parlato di lui Ok Conoscete solo un po' Come di tipo Spettro e Coleottero Tu picchiarti Ok perfetto Allora tu non hai nulla Da dire Eh Ho vissuto qua Tutta la mia vita Perché dovrei andarti Forse perché ci sono Dei Daskal Per strada Che potrebbero Picchiare assai Tra l'altro I Daskal Raga Come Ah ok Perfetto Dovrei utilizzare Un Umbreon Per sconfiggerlo Peccato che Il miglior Pokémon Che ho Eh effettivamente Contro lo spettro Raga Siamo un po' Un po' Problematici Diciamo Lo so benissimo Hai l'utilità Di un morto E tu pure Perché dici Quello che dice Quello di prima Che poi raga I morti sono utili Alla fin fine Perché Eh Se avessi un Kirlia Lo farei Perché otterrei Gengar Ma purtroppo Figlio mio Non ho Proviamo a parlare Un attimo Al tipo qua Scusami ma Non puoi entrare Nella torre Torre del Guardiano Ok perfetto Questa qua Mi sa un pochino Di leggendario Sinceramente Sarà un po' L'influenza Della seconda gen Però Comunque signori miei Io spero che questo episodio Vi sia piaciuto Se non vi vi lasciate un bel mi piace Per il ritorno di John Frog A commentare E a iscrivervi al canale Se non l'avete ancora fatto Mi raccomando Passate dai social Che trovate in descrizione Rispondete a domande Che sarà qua sotto Nella sidebar E noi ci becchiamo In un prossimo Video